In questa puntata di Unicam News presentate le azioni di Ateneo per le pari opportunità. Alla Scuola di Architettura e Design ad Ascoli Piceno il kick-off meeting del progetto SAFE. Incontro ad Ascoli Piceno sulla ricerca Unicam nel campo dei beni culturali. Successo per la Scuola Popolare di Economia che Banca Popolare Etica ha promosso in collaborazione con Unicam. Bentrovati tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Come annunciato dalla professoressa Barbara Re, delegata del Rettore per le pari opportunità in occasione del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del 683esimo anno accademico, sono state presentate ieri in Ateneo nel corso di una conferenza stampa le azioni strategiche che Unicam metterà in campo nel corso della mandato rettorale per quanto riguarda la parità di genere e la diffusione della cultura della non violenza, non solo nell'ambito della comunità universitaria con particolare attenzione alla componente studentesca, ma anche tra gli studenti delle scuole superiori e della cittadinanza in generale. Presenti all'incontro con la stampa il Rettore Claudio Pettinari, il Pro Rettore Vicario Graziano Leoni e la professoressa Barbara Re. Partendo dai nostri studenti e dagli studenti delle scuole superiori, tra le varie azioni abbiamo lanciato questo contesto, volta a costruire degli elaborati che permettono agli studenti una riflessione sul tema della violenza. Per quanto riguarda le tematiche, l'idea è di spingere sui progetti legati alla progettazione degli spazi, che siano inclusivi e sicuri, l'ambito della normativa, le scienze e tecnologie, la farmacologia, nonché tematiche legate agli animali e come questi possono contribuire alle questioni di genere. Ovviamente oltre a questo si sommeranno poi delle azioni nei prossimi anni per quanto riguarda il tema della comunicazione di genere e anche lo sviluppo di corsi di laurea declinati rispetto a tematiche di genere. Poi per quanto riguarda le professioni, noi abbiamo nel nostro Ateneo la Scuola di Scienze e Tecnologie, lì le donne sono ancora troppo poche dal mio punto di vista e di fatto l'azione è quella di costruire una consapevolezza che le scienze e tecnologie non sono avulse dai saperi e non sono però nemmeno avulse dalla fantasia, dalla creatività e quindi su questo svilupperemo una serie di azioni di orientamento anche in collaborazione con il piano di lauree scientifiche. Ed infine all'interno del nostro Ateneo favorire la parità rispetto all'accesso ai finanziamenti in modo tale che le ricercatrici possano progredire, possano progredire sempre di più rispetto alla propria carriera professionale. Si è tenuto nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno presso la Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino il kick-off meeting del progetto di ricerca industriale SAFE, design sostenibile di sistemi di arredo intelligenti con funzione salvavita durante eventi sismici che vede l'Ateneo Camerte come capofila di un parternariato composto da altri due Atenei, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Università degli Studi della Basilicata, oltre ad enti ed aziende del settore. Nel corso dell'incontro è stato presentato il progetto alla presenza di tutti i partner, motivazioni, obiettivi, risultati attesi, fasi di sviluppo, azioni, ruoli, caratteri di innovatività. Responsabile del progetto è la professoressa Lucia Pietroni della Scuola di Architettura e Design di Unicam. Il progetto SAFE è un progetto intanto cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di cui Unicam, l'Università di Camerino è capofila e l'obiettivo è quello di concepire, progettare e realizzare prodotti d'arredo, sistemi d'arredo per scuole ed uffici che possono trasformarsi, in caso di sisma e di crollo, in sistemi di protezione per le persone. Come dire, degli oggetti d'arredo che si trasformano in oggetti intelligenti, che proteggono la vita dei nostri cari negli ambienti pubblici e che contemporaneamente con un sistema di sensori e una piattaforma informatica che verrà sviluppata ad hoc, potranno preallertare e far ritrovare in caso di crollo e di superstiti sotto le mascerie questi, dando informazioni ai soccorritori anche in relazione alle condizioni ambientali del sisma. Appetenze diverse tecnico-scientifiche da incrociare tra di loro, da integrare, che sono il disegno industriale, l'ingegneria strutturale, l'informatica e la chimica dei materiali. Questo ci permetterà con i partner industriali e attraverso tutte le competenze di più di 40 ricercatori delle università che sono coinvolti in questo progetto, di insieme sviluppare degli elementi veramente innovativi da un punto di vista della salvaguardia delle persone in questi importanti fenomeni naturali. Anche quest'anno l'Università di Camerino ha aderito all'iniziativa Arte e Scienza, rassegna nazionale promossa dall'Associazione Italiana di Archeometria, giunta alla quinta edizione con un convegno su la ricerca Unicam e le nuove frontiere della conoscenza nel campo dei beni culturali, che si è svolto lo scorso venerdì 30 novembre ad Ascoli Piceno, presso la bottega del Terzo Settore. È infatti presso la sede collegata di Ascoli Piceno, che attivo il corso di laurea in Tecnologie e Diagnostica per la Conservazione e il Restauro, che ha organizzato l'evento in collaborazione con lo spin-off Unicam, Arte & Co., e con il patrocinio della Fondazione Carisap, del Comune di Ascoli Piceno, di Confartigianato Imprese, degli istituti di istruzione superiore ai Fermi Sacconi Ceci e Antonio Orsigno Svaldo Licini. Hanno infatti partecipato all'incontro oltre 100 studenti dei due istituti. Oltre agli interventi di docenti Unicam, che hanno illustrato le attività di ricerca nel campo dei beni culturali, è stata allestita poi una sessione con dimostrazioni pratiche grazie alla collaborazione degli studenti del corso di laurea. Sviluppare conoscenza per una finanza al servizio del bene comune. È questo l'obiettivo ultimo delle scuole popolari di economia che Banca Popolare Etica ha avviato con successo alcuni anni fa con il protagonismo della propria base sociale. Una scuola popolare di economia è approdata a Camerino grazie alla collaborazione con l'Università con Eticam, un progetto di educazione finanziaria che si è tenuto in Ateneo dal 30 novembre al 2 dicembre. Aperto a studenti e studentesse universitarie e alla cittadinanza interessata, il corso si è articolato in tre giornate di approfondimento e riflessione attorno al concetto della shock economy e delle risposte che le comunità possono mettere in campo. L'evento si è aperto con i saluti del rettore Unicam, Claudio Pettinari, e del coordinatore scientifico Scuole Popolari di Economia Area Centro, Andrea Battinelli. Sono poi seguiti gli interventi e le relazioni di docenti Unicam e di esperti di Banca Popolare Etica, nonché di enti ed associazioni che operano nel settore. Banca Etica ci ha proposto di svolgere qui questa attività di formazione in un settore dove noi abbiamo tanti potenziali interessati, ma abbiamo meno competenze di quelle che Banca Etica può mettere sul campo. Credo che da questo rapporto possa nascere veramente una sinergia importante. far apprendere ai nostri ragazzi, ma anche a coloro che vengono da diverse parti d'Italia e non solo, come il nostro sistema economico si sta sviluppando e quali sono le corrette procedure, le buone pratiche da utilizzare. Credo che sia un qualcosa che ogni università dovrebbe fare. Essere presenti ad un evento formativo significa impegnarsi in modo costruttivo, non essere passivi e lavorare. In omaggio al vecchio proverbio, se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Quindi chiederemo alle nostre studentesse e ai nostri studenti di impegnarsi in un lavoro di rielaborazione del materiale che verrà proposto dai nostri illustri, illustrissimi relatori e relatrici per fornire così un piccolo spunto di approfondimento. Questa è la cosa principale che noi chiediamo, impegnarsi per essere attivi. Poi naturalmente il nostro tema è quello dell'etica nelle relazioni, la qualità delle relazioni personali, come si esercita anche nei rapporti economici. Usare il proprio denaro in modo consapevole e non prestarsi a operazioni apparentemente di grande risultato che poi si rivelano delle sole, come dicono a Roma. Bene, io mi fermo qui per questa puntata è tutto. L'appuntamento con Unicam News torna il prossimo mercoledì, sempre alla stessa ora. E io vi ricordo che tutte le informazioni sull'Università di Camerino sono disponibili sul nostro sito internet www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!